Propongo all'Aula di eleggere quale garante tra i detenuti, tra tutti i meritevoli che sicuramente c'erano e ci sono, oltre quello che vi sto dicendo, il professor Gian Piero Cifaldi. Raggiunto l'accordo in consiglio regionale per la nomina del garante dei detenuti in Abruzzo. Si tratta di Gian Marco Cifaldi, 55 anni aquilano, sociologo e criminologo dell'Università d'Annunzio. Cifaldi è stato eletto grazie ai voti di centrodestra e Movimento 5 Stelle e raccoglie il benestare anche da parte della UIL penitenziaria Abruzzo. Il garante dei diritti dei detenuti, che dovrebbe controllare lo stato di detenzione, sollecitare l'amministrazione penitenziaria e verificarne gli abusi, è una figura prevista da una legge nazionale che ha quasi 10 anni e in Italia il solo Abruzzo ne era rimasto sprovvisto. La nomina arriva dopo mesi di ribellione nei penitenziari della regione, in particolare nella sezione di alta sicurezza dell'Aquila, un carcere quasi totalmente a 41 bis, dove il 29 maggio delle detenute anarchiche avevano iniziato uno sciopero della fame che proseguì per ben 30 giorni. Tramite il rifiuto del cibo, le carcerate denunciavano, si legge nei comunicati, le condizioni disumane a cui sono sottoposte, come le continue perquisizioni corporali, la censura della posta e la limitazione del numero di libri e vestiti da poter tenere in cella. Alla protesta aderirono altri detenuti in molte galerie italiane e si mobilitarono gli anarchici di diversi paesi europei. Addirittura il 17 giugno dei militanti occuparono simbolicamente il municipio del capoluogo e si arrampicarono su una gru. Questo gesto catturò l'attenzione dei media e costrinse le istituzioni a esprimersi sulla questione fino alla nomina di Cifaldi. È stata la volontà di determinare un'accelerazione necessaria, onde evitare di continuare in un percorso squalificante per il Consiglio regionale. Si tratta di un passaggio importante, ha dichiarato il governatore Marco Marsilio, che la nostra regione attendeva da anni. Al professor Cifaldi l'augurio di un buon lavoro da parte del presidente della regione.